Giuseppe Garibaldi, eroe del risorgimento, tra i principali artefici dell'unificazione italiana, nasce a Nizza il 4 luglio 1807. Iscrittosi nel 1821 nel registro dei marinai, compie diverse traversate, entrando in contatto con Mazziniani e seguaci di Saint-Simon che lo aprono ai valori dell'umanitarismo e della fratellanza tra i popoli. Nel 1833 conosce Mazzini ed entra nella giovine Italia. Fallito sul nascere il moto di Genova al quale aveva partecipato, si imbarca nel 1835 per il Sud America. Qui conosce Anita, che sposerà nel 1842, e partecipa alle lotte per l'emancipazione di alcune popolazioni locali. In particolare in Uruguay costituisce la legione italiana un corpo di volontari che indossano per primi la nota camicia russa, che sarà la divisa di tutti i caribaldini. Rafforza i suoi legami con i movimenti libertari ed unitari, anche per tramite della massoneria, cui aderisce nel 1844. Acclamato per le sue imprese, l'eroe dei due mondi torna in patria nel 1848 e interviene nella prima guerra di indipendenza. È inoltre eletto deputato nel primo Parlamento Sabaudo. Nel 1849 partecipa alla Repubblica Romana, voluta ad Almazzini, con cui entra ben presto in contrasto. Fallito l'esperimento romano fugge al nord e durante il viaggio muore Anita. Inizia in seguito a scrivere le sue memorie. Dopo un soggiorno negli Stati Uniti, torna in Piemonte nel 1855 e conosce Cavour, allora presidente del Consiglio, insieme al re Vittorio Emanuele II. È da questi chiamato ad organizzare un corpo di volontari, i cacciatori delle Alpi, per la seconda guerra di indipendenza. All'inizio del 1860 entra in contrasto con Cavour per la cessione alla Francia della Savoia e di Nizza, della quale rivendica l'italianità. Il 5 maggio 1860 con il consenso segreto del re parte da quarto, alla guida della spedizione dei Mille, per soccorrere i patriotti siciliani insorti contro il dominio borbonico. In circa quattro mesi i Garibaldini, al motto di Italia e Vittorio Emanuele, occupano la Sicilia e proseguono la spedizione in Calabria, Basilicata e Campania. Liberate le province meridionali del futuro Regno d'Italia, il 26 ottobre incontra a Teano, Vittorio Emanuele, e accantona il progetto di liberazione di Roma e Venezia, ritirandosi nella sua casa nell'isola di Caprera. È eletto deputato nel Parlamento italiano nel 1861 e sarà rieletto nelle successive cinque legislature del Regno. Riarma i suoi uomini nel 1862 diretto a Roma, ma è fermato e ferito dall'esercito Reggio sulla Spromonte. Ritenta all'impresa nel 1867 ma è bloccato a Mentana dai francesi giunti in aiuto del papato. Nel 1866 ha intanto partecipato alla terza guerra d'indipendenza, per la liberazione del Veneto dall'Austria. Nel 1870 parte quindi per la Francia in sostegno della terza repubblica appena proclamata, di cui racconta in molte sue lettere. Nel 1871 si iscrive all'internazionale socialista. Nel 1875 si stabilisce per oltre un anno a Roma, nel cui collegio è stato eletto, e presenta in Parlamento alcuni progetti di legge, tra cui uno relativo ad opere pubbliche da realizzare nella capitale. Tornato a Caprera, in delicate condizioni di salute, si spegne il 2 giugno 1882. Sono figlio del popolo, e pel popolo armato. Paragonando le mie presenti occupazioni con le mie propensioni, abbi senza dubbio contraddizione. Nemico della pena di morte ed amico della pace e della fratellanza umana, mi trovo a fare la guerra, che è l'antitesi dei miei principi. Grazie a tutti.